Ciao Lucinicorni, in questi giorni sono stata la Tiger e ho notato una cosa che mi ha colpito tantissimo Sto parlando di questo qui, questo qui è lo slime di Tiger Adesso io non l'avevo mai visto, quindi non lo so se c'era già prima o è una novità di adesso, non lo so Però appena l'ho visto ho detto, oh mio dio, voi ormai sapete che io amo lo slime E se anche voi siete amanti di slime e non ne potete fare più o meno, mi raccomando Lasciate un like così non mi fate sentire sola E quando ho visto questo qui ho detto, mamma mia tu sei mio L'ho pagato 2 euro e non vedo l'ora di spacchettarlo, di toccarlo, anche perché all'interno c'è uno scheletro C'è il senso di metterci uno scheletro dentro lo slime, non lo so, però è fighissimo, è figherrimo E adesso lo andiamo a provare insieme Sono troppo curiosa di vedere com'è questo slime, quindi ho qui la mia forbice Però intanto vediamo se lo riesco ad aprire così, penso proprio di sì Vediamo, vediamo, sono super super curiosa Sembra tipo un piccolo razzo Ecco qua, ok, questo lo possiamo anche togliere Ok, apriamolo di qua Vediamo, oh sono troppo curiosa Ci siamo, ci siamo Così, guardandolo così sembra un pochettino duretto A parte che, ripeto, questo scheletro è un pochettino inquietante, però va bene Andiamolo ad aprire E vediamo che cosa Oh mio Dio Oh, già lo sento tipo molliccio Mamma mia È super congelato, è freddi Oh mamma Vediamo Oh, lo scheletro Vediamo se è così, scende Eccolo qui Mamma mia che bello Mamma mia Lo scheletro si è seduto È bellissimo Mamma mia che bello E con lo scheletro che ci faccio Lo lasciamo qui dentro, sì dai, però lo lasciamolo qui dentro È bellissimo ragazzi È freddissimo, è super mollo Non sento odori, quindi non è fastidioso E quindi una cosa a favore di questo slime Non è ovviamente molto molto liquido Anzi, io me lo aspettavo abbastanza liquido Invece no Non è neanche tanto appiccicoso Oh, mi piace, mi piace Mamma mia Ripeto, è super super freddo Ed è molliccio È molliccio, mamma mia Sì, guardate È bellissimo Io sono convintissima che andrò a togliere subito questo scheletro Da dentro lo slime perché non mi piace Cioè è un pochettino fastidioso Anche se è un po' Un pochettino mollo Ci sto toccando il culetto allo scheletro Però diciamo che può andare È bellissimo questo slime Io vi consiglio di comprarlo Poi per 2 euro Guardate È super super mollo Bello Mi piace Sono troppo contenta Se nei prossimi giorni Tornerò da Tiger E ne troverò altri Perché Secondo me Tiger Si attrezzerà per portarne altri Ne sono più che sicura Perché c'era soltanto questo colore C'era soltanto questo modello Non va, non va Secondo me ne porteranno altri E io non vedo l'ora di andarli a prendere Appena arrivano Guardate No, vabbè Mi piace Siccome io non sono contenta Io voglio togliere lo scheletro Vediamo se esce Vediamo La testa è uscita Sembra un parto La testa è uscita Ma lui è anche molto Ciao scheletro Ed eccolo qui Lo scheletro che c'era all'interno Molto carino È di gomma Sì è di gomma E questo qui Lo potete usare per Halloween O per carnevale Bello Eccolo possiamo togliere E quindi eccolo qui Finalmente lo slime Senza lo scheletro All'interno Fa anche rumore Fa anche rumore Bello Bello Ripeto Non lascia le mani Unte Non lascia le mani Umide Non emana anche Un odore fastidioso Perché non profuma Di nulla E quindi per me È veramente super promosso Ecco Senza scheletro Vi posso assicurare Che è tutta un'altra cosa È più maneggevole È più Morbido È tornato Cioè è diventato Anche più viscido Perché prima era Un pochettino più Rigidino Guardate E quindi Niente Mi piace tantissimo E Ci giocherò tantissimo E soprattutto Finirà nella mia Adoratissima Collezione di slime E questo qui Era lo slime Di Tiger Ho deciso Di rinfilarci Nuovamente Dentro Lo scheletro Per dare Quel tocco Di macabro A questo slime Anche perché Non so voi Però questo qui Questo portaslime Mi sembra come una provetta Chimica Non lo so Qualcosa tipo Da laboratorio E quindi Vedere dentro lo scheletro Dai Ci sta Ci sta Ci sta Il colore Mi piace tantissimo Anche la consistenza Ve l'ho detto Mi piace Non vedo l'ora Di andarci a giocare In questi giorni E quindi Vi consiglio Di provarlo Poi due euro Dai Si può fare Quindi Mi è piaciuto Mamma mia Mamma mia Guardalo Lui Se io poi Dovrei sapere che Mi fisso Con gli slime Ma penso di non essere l'unica E niente Se questo video Mi ha tenuto compagnia Vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi al canale Per non perdere I miei prossimi video E soprattutto Seguitemi su Instagram E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Aiuto Ciao Oh mio dio E' un po' Scorregino Un po' tanto Non entra Complimenti Lo chiameremo Slime Scorregino Un po' tanto Di Un po' tanto E' un po' tanto 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 Un po' tanto